Siamo negli ultimi minuti della partita tra Atalanta e Udinese, adesso siamo all'89esimo, con un Atalanta che sta vincendo per 2-1. Anche in questo caso una partita che fondamentalmente si può dividere in due, perché nella prima parte appunto di 90 minuti un Udinese che ha tenuto tanto a bada l'Atalanta, tant'è che molte volte gli uomini di Gasperini sono andati anche in difficoltà, soprattutto in difesa per la fisicità di Davis, il fatto che a volte Zappacosta si facesse prendere in castagna quando Davis insomma attaccava le spalle appunto dell'esterno destro dell'Atalanta e quindi un Udinese che si è anche reso più pericoloso nel primo tempo. Ottime parate di carnesecchi, a volte l'Atalanta ha avuto un pizzico di sfortuna magari quando il pallone era davanti alla porta di Udinese e poi magari qualcuno li spingeva, il fatto sta che a fine primo tempo si fa male Zappacosta, un risentimento al soleo, quindi tradotto in base ai termini nostrani semplicemente un dolore al polpaccio del quale ancora non è stata stabilita insomma la natura. Il fatto sta che poi Gasperini lo lascia in campo appunto per tirare alla fine del primo tempo, in quel caso prima del tiro di Camarà Zappacosta aveva bisogno di aiuto, non è uscito Ederson ad esempio, non è uscito Kusunu che comunque era il braccetto di destra, il fatto sta che Camarà con una bordata di sinistro batte Carnesecchi dopo che Carnesecchi già aveva effettuato delle ottime parate. Nel frattempo comunque nella prima parte del primo tempo insomma si era anche fatto male Jim City per lui una distorsione al ginocchio. Adesso dovremmo aspettare gli esami strumentali per vedere insomma se è interessato magari anche il legamento, qualche altra struttura appunto di articolazione o magari soltanto semplicemente una lieve distorsione al ginocchio. Nel secondo tempo invece cambia totalmente la partita perché comunque entra Belanova al posto di Zappacosta ed ha quel brio in più che poi porta al gol di Pasalic, veramente un'azione ben costruita e dalla quale un pochino anche la Juventus dovrebbe imparare quindi azioni prima, veloci e magari con un tiatore che non tira sempre addosso agli avversari. Un piccolo riferimento a Cobb Miners ma a volte Cobb Miners è anche un po' sfigato durante le conclusioni. E poi anche l'autogol propiziato diciamo così ha sempre lo stesso Belanova che Touré è intervenuto male spiazzando il portiere Ocoglie. Da lì in poi però fondamentalmente l'Udinese si è totalmente spento perché nella fase prima del primo gol, tra il primo e il secondo gol comunque l'Udinese è sempre stato in partita, bello sveglio, con delle idee. Dal secondo gol in poi l'Udinese è completamente sparito. Non ho visto più la stessa squadra e dopo l'Atalanta è giustamente anche legittimato diciamo così il vantaggio perché comunque ha dimostrato più presenza in campo rispetto all'Udinese, più concentrazione, ha ritrovato un po' di equilibrio, un po' di convinzione all'Atalanta ma dopo fondamentalmente è stata una partita di gestione. Ovviamente questo è un qui di in più per l'Atalanta perché comunque quando si vincono queste partite anche sporche vuol dire che comunque tu la squadra importante ce l'hai. Non sempre bisogna giocare a 3.000 e creare 300.000 occasioni e fare 27 gol ma quando tu hai la forza mentale e fisica di portare alla vittoria insomma una partita così nata male dove tu comunque hai sofferto e ripeto Carnesecchia ha fatto le ottime parate nel primo tempo è sicuramente un sintomo che tu Atalanta sta diventando una grande squadra. Dopo c'è anche da parlare dell'infortunio di Zagnolo che dopo a un certo punto verso gli ultimi minuti del secondo tempo si è infortunato nella zona alta dell'adduttore della coscia sinistra staremo a vedere. Io continuo a dire Zagnolo ormai fisicamente è un giocatore a metà troppi infortuni nonostante abbia 25 anni non l'ho mai convinto l'Atalanta ha fatto questa semiscommessa per tentare di rivitalizzarlo ma staremo a vedere. L'Udinese che comunque mi ha discretamente convinto cioè nel senso per una grossa parte di gara mi ha convinto perché comunque questa è una squadra propositiva con Toven con Davis con gli esterni con Camarà con Isibo è una delle poche volte che mi è piaciuto Camarà con la regia comunque di Karlström insomma una difesa guidata da Biol in modo ottimale insomma una squadra che c'è il problema è che l'Udinese come anche altre squadre come anche il Monza ad esempio difettano nelle conclusioni molte volte quando giochi con queste grandi squadre se ti capitano 5-6 occasioni devi buttarle dentro almeno 4 perché se dopo cominci ad andare di imprecisione una volta sbagli il tiro una volta la tiri fuori una volta la fai parare quando davanti hai una grande squadra se tu fai 500.000 tiri generali e 30 in porta ma fa un gol e quell'altra squadra dal tasso tecnico più alto ne fa 3 ma ti sbatte dentro due gol tu la partita non la porti a casa ecco perché intanto finisce la partita confermato il Duno ad alante e rimonta dicevo qui devi sperare anche l'altra squadra non faccio una partita positivissima perché se no ragazzi i valori in campo contano la differenza dei valori in campo conta al 50-60% ma se la squadra diciamo più debole non quaglia l'altra squadra a meno che non gli capiti la partita più orribile della storia dove non ti esce niente tu quella partita non la porti a casa e adesso andiamo a vedere un pochino i i vari calendari intanto riflesso le pagine ecco qua allora vediamo l'Atalanta che viene da un trend molto positivo perché l'ultima sconfitta è addirittura datata 24 settembre contro il Como altrimenti una serie positiva che va avanti da otto partite comprendendo anzi no scusate qua non si è riflessiata la pagina va avanti da un bel po' di tempo ecco è riflessiato va avanti da nove partite nove partite nelle quali ha vinto otto volte e una pareggiata una parlo tra campionato e coppa ora ci sarà la pausa e dopo l'Atalanta avrà il Parma quindi squadra iperbattibile per gli uomini di Gasperini lo Young Boys e una Roma e attenzione a Roma perché non so se il 2 di dicembre arriverà con Iuri Cimpanchino onestamente io mi sono vi dico già ho registrato un video sul Milan e sul discorso di Ternandez per spoilervi un attimino l'argomento ma non so quando lo metterò fuori perché oggi giocherà anche a Roma contro Bologna e non voglio bruciarmi degli slot di video per non parlare eventualmente di Iuri che non so quando va a finire ovviamente la partita ma il 2 di dicembre potrebbero esserci già più Iuri sopra inchiere a Roma quindi aspettiamo però un calendario fondamentalmente Parma Young Boys e Roma sulla carta assolutamente non proibitivo per quanto riguarda invece l'Udinese ovviamente non mi ha riflessiato la pagina ora la riflesso ecco qui un periodo veramente tanto 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 altalenante perché nelle ultime 6 ne ha 22 e perse 4 quindi anche l'Udinese che ad ora è ottavo in classifica a 16 punti deve tornare a fare punti assolutamente e no e no senti amico mio ma mi rifresci la pagina gentilmente contando che la partita è finita non mi ha rifrescia comunque corregoltato perché pensavo nel refresh nelle ultime 7 ne ha perse 5 e vinte 2 quindi sembra quasi una squadra che non conosce assolutamente il pareggio perché l'unico pareggio dell'Udinese è stato la prima giornata il 18 agosto contro il Bologna per 1 a 1 di lì in poi tutte vittorie o sconfitte le prossime partite dopo la sosta l'Udinese dovrà far punti perché si troverà davanti Empoli Genoa e Monza il 25 novembre l'Empoli il primo dicembre il Monza il Genoa e il 9 il Monza prima del big match contro il Napoli big match nel senso che comunque il Napoli è una big quindi insomma l'Udinese nelle prossime tre partite deve fare punti e forse magari potrà mettere anche un qualche pareggio al referto perché veramente su 12 partite un solo pareggio quindi un po' troppo polarizzata la squadra di di Junic e stiamo appunto a vedere stiamo appunto a vedere però ripeto con Empoli Genoa e Monza mi aspetto quanto meno mi aspetto 6 punti se non 7 da parte l'Udinese stiamo a vedere ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra impressione e voglio ricordarvi che il giorno 12 sul mio canale YouTube farò una live just chatting sarò soltanto io presente e in questo modo avrò possibilità di dialogare molto con voi e ovviamente potete diciamo così rimanere aggiornati scrivendovi al mio gruppo Telegram e perché vi dico anche di iscrivervi perché a intervalli magari accoglierò qualcuno di voi in live magari per farmi qualche domanda parlando vis-a-vis o magari affrontando anche dei temi e come fare per prenotarsi una volta che ho creato la live ho ovviamente l'indirizzo di Streamyard per invitare basta che mi iscrivete su Telegram voglio partecipare invio il il link della live entrate e possiamo parlare tranquillamente io tu che mi passi a trovare in live diciamo partecipando e tutti coloro che saranno comunque in chat diciamo così quindi fatemi sapere qui sotto e iscrivetevi sia al canale YouTube che al gruppo Telegram vi mando al bacione e c'è il prossimo video ciao ragazzi ciao